Non è la prima volta che viene convocato dalla sua nazionale, è stato anche in quella maggiore allenata da Davis Mangia. Sarà la prima volta invece di Carlo Zammit Lonardelli con l'Under 21 di Malta da tesserato della Fidelis. È sempre un onore essere chiamato dalla nazionale, è importante sempre essere lì presente con la propria nazionale, però adesso c'è da concentrarsi sulla Fidelis e poi ci concentriamo sulla nazionale. Il commissario tecnico dell'Under 21 di Malta, Silvio Bella, ha inserito il giovane centrocampista originario di Corato nell'elenco dei convocati per la doppia sfida di qualificazione agli europei di categoria. Malta affronterà l'Irlanda del Nord il 4 settembre e la Romania l'8 settembre. Ora però Zammit Lonardelli è concentrato solo e soltanto sull'Andria e sul ritiro che i biancazzurri stanno svolgendo dal lunedì scorso a San Giovanni Rotondo. Nella passata stagione ha militato nello Zrinski-Jurevac Serie C croata dopo l'esperienza nella massima Serie di Malta con il Birkarkara. Ora la grande occasione di approdare in Italia la terra dei suoi nonni materni, un sogno che è diventato realtà proprio grazie alla Fidelis. Io sono venuto qui per migliorare, ci sono tanti giocatori da cui posso imparare molto, lo staff tecnico molto preparato. Sono venuto qui per fare il stato di qualità, si può perché c'è tutto per farlo. Sono venuto qui perché c'è tanta professionalità, è una piazza grande dove posso migliorare e posso imparare tanto. Domenica in programma la prima partitella estiva della Fidelis che sfiderà il Real San Giovanni, squadra di prima categoria, fischio d'inizio previsto alle ore 17.30 allo Stadio Massa, chiuso naturalmente al pubblico diretta. dell'amichevole sui profili social di Telesveva e News24.city.